Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. La notizia da scomparsa di Franco Marini, il lupo marsicano, ex presidente del Senato, ex ministro del lavoro, ex segretario della CILS e quasi presidente della Repubblica Italiana, ha fatto velocemente il giro del web dopo il tweet del suo amico fraterno ed ex presidente provvisorio dalla Camera dei Deputati, per Luigi Castagnetti, che scrive, uomo integro, forte e fedele a un grande ideale, la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia, quella vera. L'eco si è trasformato in una ripetizione di commiati. Enrico Letta, tanti pensieri, tanti ricordi, un grande protagonista. Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che osserva confronto e dialogo, guardare al minimo come un denominatore piuttosto che al massimo come un divisore. Grazie Franco Marini. Ancora il presidente della Camera Roberto Figo, il mio cordoglio per la scomparsa di Franco Marini, un uomo delle istituzioni. Ci ha lasciato Franco Marini, commenta il segretario del PD Nicola Zingaretti su Facebook, instancabile combattente a difesa del futuro. In Abruzzo è un susseguirsi di comunicati stampa dal presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, all'onorevole Stefania Pezzopana, al senatore Luciano D'Alfonso. Questa notte ci ha lasciato Franco Marini, uno dei simboli della nostra regione. Ha speso la sua vita a servizio della cosa pubblica, combattendo al fianco dei lavoratori. La terra ti sia lieve. Il ricordo è poi affidato al presidente Ancio Abruzzo, Gian Guido D'Alberto. Il ricordo personale è legato all'inizio della mia attività politica all'interno del Partito Democratico. Fui nominato presidente della Commissione Statuto e fu il primo, nonostante fossi l'ultimo arrivato a darmi dei consigli. Questo a dimostrazione del fatto che era una figura che comunque apparteneva già ad una generazione che completava e concludeva il suo percorso politico, ma guardava avanti, guardava già di investire sul futuro. E questo è un messaggio importante che dobbiamo saper cogliere.